Grazie Presidente. Per ora comunque i nostri cassonetti non sono molto intelligenti quindi continuano ad essere meglio le persone. Voterò come gruppo a favore di questa deliberazione perché riteniamo che comunque, al di là di quelle che sono le suggestioni ammesse nel corso del dibattito, la realizzazione di alcuni ecocentri in una città come Cagliari, soprattutto situati all'interno dell'area vasta come zona nodale, sappiamo bene tutto quello che succede ogni giorno della settimana, in particolare il lunedì mattina e quindi sicuramente da questo punto di vista la realizzazione degli ecocentri può servire a sgravare tutta una serie di fenomeni di paraillegalità nel conferimento dei rifiuti che porteranno un vantaggio. Vero è che la questione non può finire qui, questo è un passo essenziale e fondamentale ma tutto il resto è ancora da costruire. Qui una riflessione chiedo a tutto il Consiglio di farla anche al Presidente della Commissione in ordine a questo chimera del bando rifiuti che da mi sembra 10-15 anni in questa amministrazione viene rimandato o oggetto di gare che poi vengono boicottate e o cassate davanti ai tribunali amministrativi, ci sono stati anche molti passaggi in procura. Probabilmente un bando così ampio e così appetibile dal punto di vista economico, così come è appetibile l'attuale gestione del sistema dei rifiuti e la proroga al libitum di quello che poi è il sistema attuale, può creare veramente una problematica insommotabile. Quindi noi in quel caso avremmo voglia di regolare, di realizzare ecocentri ma poi non risolveremo il problema principale. Altro è ancora e non lo voglio affrontare in questa sede il problema di scariche, inceneritori e via dicendo. Certo è che questo dovrà essere deciso a livello regionale e non mi pare che in questo momento dal punto di vista delle proposte e delle progettualità si sia certamente all'avanguardia. Grazie.